cari amici di mille un'avventura eccoci a un nuovo episodio dominicale di tg1001 questo particolare notiziario in cui andiamo a rivedere le varie proposte sul canale di mille un'avventura e anche altri canali di iscritti che seguo magari anche non iscritti al mio canale che però propongono contenuti interessanti se vi piacciono tutte queste cose come sempre vi suggerisco di iscrivervi ma andiamo subito a vedere cosa abbiamo proposto questa settimana poche cose e subito dopo tutto ciò che segue vedete quanti contenuti stiamo per proporvi prima cosa lunedì abbiamo coperto la ifcomp competition quella che tutti gli anni si tiene negli stati uniti con tante avventure testuali tutte in lingua inglese tantissime erano 75 mi pare quest'anno l'anno prossimo sarà il trentesimo anno in cui si tiene questa competizione e siamo andati alla scoperta di quale avventure testuali hanno vinto quali si sono sistemate sul podio se vi interessa l'argomento dovete scusare il pessimo audio di questo video purtroppo avevo dei problemi col col microfono e insomma è quello che ho potuto fare eventualmente lo cambierò lo riproporrò con un audio migliore dopodiché siamo andati alla scoperta di questo restauro del pianeta dell'incubo sul sito ready 64 si trovano sempre tantissimi materiali che riguardano il commodore 64 e perciò abbiamo grazie a un iscritto scoperto questo restauro un programma didattico associato a un libro che purtroppo conteneva degli errori nel suo listato e qualcuno si è dato la pena di ripristinare bene tutto quanto e così dopo tanti anni possiamo provare questo pianeta dell'incubo corretto al cento per cento infine l'ultima cosa seria che ho portato è stata ovviamente la serie dei videogiochi degli iscritti siamo arrivati al quattordicesimo episodio e abbiamo potuto apprezzare altri giochi dei casual game proprio per giocatori che su piattaforme come each.io o gamepix possono giocare molto velocemente giochi di questo tipo nonostante siano così casual game come vedete sono stati creati in particolare questo save the sea in un modo molto curato da provare assolutamente e poi visto che questa settimana abbiamo prodotto pochi video seri dal punto di vista proprio del dei contenuti ho portato diversi gameplay di fortnite e ovviamente insomma ci sono dei degli appassionati anche di questo e tra l'altro io credevo fosse uno scherzo c'è stato un una donazione durante questo gameplay io pensavo fosse il solito scherzo dei dei buon temponi invece una donazione vera quindi ringrazio nikitmgm per la donazione che io non avevo al momento capito ma mi sembra anche un po' esagerata e comunque grazie che dire non c'è di che cioè grazie grazie sono rimasto senza parole quando ho scoperto che effettivamente non era uno scherzo comunque ecco i gameplay sono sempre divertenti per chi li vuole seguire mi dispiace magari per quelli che invece appunto vogliono vedere altri tipi di video allora per rimanere sul tema c'è il canale di mister inter 13 che associato al nostro per ovvi motivi che ha proposto anche lui il un gameplay di fortnite con meno successo dal punto di vista delle donazioni però anche anche mister inter 13 si è lasciato andare a questi giochi un po' più così divertenti rispetto a quelli che portava prima che erano starfield e giochi di questo genere comunque andiamo a vedere ora i canali seri c'è una bella notizia e notria non so se avete presente notria qui lo vediamo in un articolo in un video articolo di avriai è un souls realizzato in italia conoscete dark souls giochi di questo genere in cui si combatte freneticamente questo è completamente realizzato in italia da un team italiano con anche delle diciamo dei contenuti che hanno a che fare proprio con il bel paese e molto interessante come gioco qual è la notizia e la notizia è che eccolo qui è disponibile la closed beta potete iscrivervi alla closed beta provarlo si può partecipare anche se non si acquista il gioco se volete aiutare lo sviluppo potete qui sotto ci sono tutte le informazioni per iscrivervi e piano piano cercheranno di proporvi la loro il loro gioco e chiaramente dovrete riportare le vostre impressioni si clicca su join close beta che adesso qui un po' piccolo non lo vedete però eccolo qui e poi bisogna rispondere a certi sondaggi quindi un po' di informazioni bisogna darle e poi vi arriverà se siete appassionati di dark souls o giochi di questo genere è davvero un gioco da provare e potete partecipare aiutare allo sviluppo finale di questo gioco questa era una notizia interessante perché magari siete appassionati proprio di questo genere andiamo a parlare di del sito o meglio del canale di riccardo masini che ci porta sempre dei war games interessanti questa volta abbiamo a che fare con questo land and freedom che sembra un gioco interessante perché copre la guerra civile spagnola che in effetti non mi pare almeno io non sono proprio addentro queste cose a questo tipo di giochi ma mi sembra molto particolare la guerra civile spagnola come argomento e qui si vede questo bel tabellone tutte queste belle carte e quindi avranno cercato di riprodurre gli autori la situazione dell'epoca cercando di realizzare un simulativo un war game simulativo valido e qui ce lo spiega riccardo masini come funziona sempre restando su riccardo masini ha partecipato anche su questo altro canale la guerra dell'anello board games italia ha partecipato a questa intervista o meglio questo quattro chiacchiere a mordor quinta puntata ed era ospite riccardo masini di questo canale quello lì che che è spuntato molto interessante parlare di war games di videogiochi da tavolo simulativi ma anche altre cose in la guerra dell'anello chiaramente qui siamo su temi tolkeniani visto che ci sono i 50 anni dalla morte e anche questo è decisamente qualcosa di interessante come interessante te lo do io il dungeon qui invece siamo nei giochi di ruolo dungeons and dragons perché ha proposto un dei quiz e se siete appassionati di dungeons and dragons potreste andare a rispondere a queste domande in effetti non tutti azzeccano la risposta corretta deve essere davvero difficile come test qui era un video sui quiz più difficili sala giochi 1980 siamo passati al retro gaming di cosa ci ha parlato ecco ci ha parlato di zap questo numero 42 del febbraio 1990 ecco si parla di queste di tutti questi argomenti di retro gaming di nuovo con tanti ospiti che ne parlano anche questo su twitch in particolare è interessante da seguire se non lo conoscete dategli un'occhiata se vi piace l'argomento di certo continuerete a seguirlo come ormai seguite appassionati igor stellar da parecchi anni e porta sempre anche lui argomenti di retro computing e questa volta si parlava del 3do sempre insieme a magnum cdi anche lui un esperto del campo di retro computing altro canale interessante indie gameplay ita porta tanti contenuti che riguardano giochi indie italiani possibilmente e questa volta in questo video ecco ha parlato per esempio di anvil saga e di altri giochi che ha appunto nuovi che stanno uscendo in particolare su steam altro canale interessante qui siamo invece passati più sul sullo sviluppo vero e proprio di videogiochi in particolare con con unreal cg dealers ci spiega questa cosa particolare è un canale in inglese però quando si compongono questi terreni succede spesso di dover appiccicare dei modelli realizzati con la fotogrammetria e di doverli sovrapporre ad altri modelli perciò si vede spesso se non si fa attenzione la linea di separazione tra un modello e l'altro ecco qui ci spiega con l'rvt come si può fare il blending tra il terreno e il modello appiccicato sopra rendendo la cosa molto più realistica molto più bella da vedere non ci sono delle dei tagli netti e qui ci spiega in questo video proprio come realizzare questo tipo di effetto e se siete sviluppatori hobbisti di unreal engine magari non conoscete la tecnica e questo video ve la spiega in modo dettagliato come ci spiega danny cg questo invece un canale in italiano come usare unreal engine per particolari effetti l'ultimo video questo è del di quattro giorni fa ecco ci spiega come appiccicare alberi e piante sui terreni è una cosa ovviamente di base che se siete così esperti di unreal engine sapete fare però ci viene spiegato se non conoscete l'unreal engine può essere utile seguire questi tutorial che per giunta sono in italiano e quindi è facile comprenderli rispetto a quelli inglesi se l'inglese non è proprio il vostro il vostro la vostra lingua madre diciamo project cd si sta organizzando un nuovo a una nuova sfida per dicembre perciò rimanete sintonizzati o sul canale di project cd o sul mio perché arriveranno notizie interessanti non tra tanto tempo riguarderanno sempre la commodore riguarderanno sempre una sfida da portare a termine e come ci diceva qualche iscritto adesso lo vado a recuperare il mio canale se ci riesco perché eccolo qui visualizza il tuo canale eravamo andati a proporre un un sondaggio per sapere a quanti sarebbe interessata una nuova sfida tra l'altro vedo che ultimamente da quando avevo visto l'ultima volta i voti sono saliti quasi a 50 vedete 47 voti e praticamente due su tre hanno intenzione di partecipare a questa nuova sfida io qui avevo scritto sul commodore 64 ma non è detto che debba essere per forza sul commodore 64 se siete appassionati di vic 20 probabile che il vostro computer preferito sia possibile utilizzarlo ecco però vedremo meglio più avanti quello che succede quindi ben due su tre parteciperanno di questi 50 c'è un 10 per cento che non vuole assolutamente partecipare bene peggio per lui e cinque di questi 50 circa non parteciperanno non ci interessano ovviamente il tempo è quello che è se riuscite a partecipare ovviamente ci fa piacere e ci dovrebbero anche essere dei premi a disposizione qualcuno non lo vuole troppo difficile questo questa sfida non troppo difficile e qualcuno dice beh se avremo il tempo parteciperemo altrimenti pazienza è ovvio che è tutta una cosa fatta per divertirsi qui tra un'ora e mezza sto registrando non sabato tra un'ora e mezza sempre sul canale project cd si parlerà di commodore 64 di mandelbrot che qui ha scritto male mandelbrot almeno che non sia voluto comunque c'è un refuso qui e old school programming sono curioso di vedere l'avevo fatto all'epoca nell'88 non sono riuscito a ritrovare il programma in linguaggio macchina che avevo realizzato per creare l'insieme di mandelbrot sul commodore 64 c'ero riuscito ci volevano circa 20 minuti per per fare una schermata così proprio con un contatore molto basso sono curioso di vedere tra un'ora e mezza che cosa ci propone invece project cd sempre mandelbrot e commodore 64 e spero prima o poi di recuperare il il programma che avevo scritto io perché insomma era piuttosto interessante e infine torniamo sulle avventure testuali victor steampunk ci spiega con quest'ultimo episodio come programmare un'avventura testuale in basic in sei puntate è riuscito a coprire quello che può servire per creare un'avventura testuale in in basic e c'è proprio qui il video che ci spiega bene vedete tutte le linee di codice qui sopra usa qb64 perciò è un'avventura in basic ma per computer moderni e infine visto che un iscritto mi ha proposto questo canale in particolare questo video adesso non ricordo chi sia stato a proporlo però era o garret no credo l'altro l'altro lo dico subito allora scusate ma scrocchio dovrebbe essere scrocchio che mi ha detto mi ha segnalato questo video in cui si fa un test con una fotocamera con lo zoom più grande del mondo 3000 mm una cosa pazzesca e qui ho scoperto questo autore che al canale su youtube turco che però fa questi video in italiano o meglio insomma non capisco come come sia possibile probabilmente non lo so comunque bellissimo questo video perché ci fa vedere con questo particolare zoom cosa si può vedere a quanti chilometri di distanza si può osservare si vede anche che la terra non può essere piatta perché altrimenti si riuscirebbe a vedere ancora più lontano cose di questo genere e vedete che zoom potente riesce a vedere così lontano anche più lontano è livello 2 sempre più lontano fino a inquadrare i pianeti si vede giove con le lune quindi un video molto interessante è un canale che ha 7 milioni di iscritti e questo video di un mese fa 104 mila visualizzazioni se siete appassionati di fotografia e di fotocamere e di zoom questo video fa per voi quindi ringraziamo scrocchio spero di aver ricordato bene chi me l'aveva proposto e direi che questo è tutto per la settimana ci si rivede la prossima settimana con altri video non so se già cominceremo a parlare della sfida vediamo un po' no probabilmente la settimana successiva proporremo la sfida e vediamo quanti davvero parteciperanno di tutti quelli che hanno detto sì a me interessa di nuovo grazie a tutti per l'attenzione ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti